Ciao ragazzi, io sono Criscara e bentornati in questo nuovissimo video oggi sarà l'ultimo tour, possiamo dire, di Potricelli infatti nello scorso video, ve lo avevo detto, che facevo l'ultimo tour non mi sentite bene, ma c'è musica, c'è una canzone e già potreste capire qualcosa da questa canzone comunque, prima di vedere l'ultima cosa, l'ultima cosa di Potricelli vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campionellina e lasciare un bel like ok, adesso, 3, 2, 1, voilà adesso, più mi avvicino, più non sentirete più la mia voce beh, allora allora non mi sentirete mai ma comunque si avete già indominato qui qui è tipo un teatro dove ci si balla e questo, canzone è questa musica non mi faccio dire è questo il problema e qui di solito allora prima c'erano baby dancing perché praticamente ci ballano i bambini e poi e poi tipo c'è uno show dove fanno cose bellissime che fanno pure ridere va bene spero che questo ultimo tour oh stasi spero che questo ultimo tour vi sia piaciuto di Potricelli se così è stato sapete già cosa fare? e quindi noi ci vediamo che forse pubblicherò ricordiamo che tra pochi minuti iniziano per evidenza sì, grazie comunque io non credo che pubblicherò alcuni shorts intanto in questi giorni credo però i video torneranno tipo oh tipo torneranno in sedici o non lo so ok va bene quindi noi ci vediamo ciao